Noi tutti gli amici sono ferrici, lo sai perché? Oggi è una gran festa, cantiamo tutti i cieli, mi piacerà! Presidente, ovvero proprio trofeo quello che si sta svolgendo oggi a Bologna si chiama Edil Trophy. Chi è che sta lavorando, che cosa stanno facendo e qual è l'obiettivo? È una gara istituita sei anni fa, questo è il sesto anno consecutivo che la facciamo. Si tratta di una competizione tra i vincitori delle selezioni regionali di Edil Trophy, cioè una gara di arte muraria, di saper fare, che è tipica del nostro settore. Presidente, quali sono i criteri di valutazione? C'è una giuria vera e propria ed un premio finale? Sì, c'è una giuria molto attenta, che sta curando ogni particolare. I criteri sono molto complicati e numerosissimi sono i parametri per determinare il punteggio finale. Si possono riferire in generale alle dimensioni geometriche e fisiche del manufatto, quindi il rispetto del disegno, il rispetto complessivo, delle caratteristiche dell'esecuzione dei giunti di muratura, della forma, della precisione, ma anche dell'aspetto estetico, quindi curare la pulizia del lavoro. E questo è raffigurato in una ventina di parametri, che danno dei punteggi parziali e la somma dei punteggi fornisce la graduatoria. Abbiamo visto che c'è anche una donna che concorre. Certo, certo. Però non abbiamo delle quote rosa predeterminate. Se concorre vuol dire che ha vinto una selezione, quindi è brava per conto suo. Presidente, più in generale, il settore che lei rappresenta, alla domanda come sta? Cosa mi risponde? Sta malissimo, sta malissimo perché, diciamo, in parte per un problema del sesto ciclo dell'edilizia. Voi sapete che gli investimenti in conto capitale hanno un andamento ciclico. Questo è il sesto ciclo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma questo si è sommato poi a fenomeni che niente hanno a che vedere con il nostro settore, che risente in particolare delle turbulenze nazionali ed europee, e anche internazionali in generale, della crisi della finanza, eccetera, eccetera, perché rappresenta e concretizza gli investimenti in conto capitale. Cioè noi ci occupiamo, sia per le opere pubbliche che per le iniziative private, ci occupiamo di investimenti in conto capitale. E questi sono i più importanti che una famiglia o un'azienda fa. E quindi sono quelli che più risentono di un andamento sfavorevole della economia e della conduzione politica di un Paese. Il vincitore di questa competizione avrà un futuro roseo? Intanto avrà un premio in denaro, che non guasta. La soddisfazione di vincere, la scuola a cui appartiene, è una delle nostre 105 scuole che abbiamo nel territorio nazionale, prenderà una coppa, quindi una cosa simbolica. E in ogni caso, diciamo, vedrà positivamente valorizzarsi il suo saper fare, con qualche cosa di concreto che può preludere però anche a un miglioramento del suo inquadramento nel mondo del lavoro.